Non intendevo, subito, subito! Non è colpa mia! La nave perde potenza! State tutti bene? La nostra bagnarola ha qualcosa che non va. Tu dici? Quella nave è un rottame. No! È stata inutilizzata per un fantastiglione di anni. È normale che si guasti una volta o due. Sembra che ci sia un problema con la trasmissione dell'energia alfa. Grandioso! Potete aggiustarla voi? Noi abbiamo un pezzo di cuore da trovare. Un frammento del magma. E magma significa fuoco. E fuoco significa riff. Non ci credo. Sto sprecando il mio epico talento in una missione di... approvvigionamento. Ascolta, prima troviamo qualcosa da mangiare, poi potremo... Guarda! Missione compiuta! Un frutto di zango! Maturo e succoso! Proprio come quelli del Regno del Fuoco, solo... dieci volte più grande! Sei sicuro che sia commestibile? Non hai mai mangiato uno zango prima d'ora? È molto più buono degli sloggo! Delizioso! Avanti! Assaggia! Saddi! Cavolo! Marcio bruciacchiato! Wow! Zottobo! Zottobo! Il frammento! I suoi poteri del magma si stanno diffondendo! Guardate laggiù! Un altro pezzo del cuore del Titano! Sta provocando una specie di reazione nella piramide! Ma è il magma che crea un po' di luccichio! Eh? Oh! Ah! Sono solo un po' di rocce piene di magma! E adesso come arriviamo lassù per recuperare quel frammento? Niente panico, Icor! Dobbiamo solo schivare un paio di blocchi di magma! E ora, ridacci il nostro frammento! Lo volete? Ve ve venite a prendervelo! Adesso è in trappola! Andiamo! Riff, aspetta un secondo! Riff! Ho detto andiamo! Fatti vedere, piccolo mostro saltellante! Sono qui! Sono qui! Trovato! Riff! Le rocce cederanno a momenti! Non è la sua testa! Riparatevi! No! Siamo in trappola! Chi è in trappola adesso? Avete perso, perso, perso! Non ancora! Siamo i guerrieri del magma! Fra poco saremo di nuovo fuori! Riff, ti prego! No! Non riuscirò a resistere ancora per molto, Riff! Cosa facciamo? Muovetevi, lumaconi! Guardate che cosa ho trovato! Oh, che cos'è quello? Come fa a stare sospeso? Sol ha detto che i Solark vanno matti per l'equilibrio! Ad ogni modo, ora dobbiamo riuscire a entrare lì dentro! C'è nessuno! Aprite! Aprite! Fateci entrare subito! Riff, non... Stupido ammasso di roccia! Io ti... Riff, calmati! Guarda! Scintille alfa! Ma come ci sei riuscita? In verità, non ne ho idea! È meglio se ce ne andiamo da qui! Aspetta! Succede qualcosa! Eh? Oh! 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 Wow! Come ci siamo finiti qui dentro! A quanto pare Aoki ci ha fatto entrare! Non riesco a capire! L'energia alfa è scomparsa! E il mio guanto è completamente fuori uso! Fuori due! Fuori tre! Beh, io invece ho ancora i poteri del magma! Oh! Che cosa succede? Riff, che cosa hai fatto? Ragazzi, quello lì! Quello lì è un guerriero Solark! Oh! Per un attimo ho avuto paura! Silenzio! Chi siete voi? E perché siete venuti fin qui? Ho di nuovo paura! Hai ragione! Ero spaventato! I poteri del magma erano troppo forti per me! Sol ci ha incaricato di raccogliere i frammenti per consegnarteli! Quello era il mio compito! Mi dispiace di aver fallito! Il potere del cuore del Titano rappresenta un pericolo per chiunque lo custodisca! Ma vedo un grande potere in te! Ora è tempo di ricongiungere i quattro frammenti! Conterrò il potere dei frammenti di magma! Così potrete riportarli indietro al Grande Tempio! Trovate gli altri frammenti, guardiani! Ma fate attenzione al loro potere! Grazie!